cosa sta odiando questo gatto possiamo osservare il nuovo tocco il fatto che fa a un gatto qualsiasi e tra l'altro è anche il suo colore è anche nero adesso ascia si il fatto che l'incoglionito non aiuta si ho capito ma si capisce che inquadrare la luce che riflette è difficile perché sto prendendo il gatto e la luce che riflette riflette lo schermo al cellulare come cazzo spegno sto facendo il video allora la professionalità chiama quello psico batman è batman bat cat rinco cat guarda cosa c'è lì ma fai vedere solo il simbolo funziona così fai vedere solo il simbolo vedete è un gatto inoffensivo vi giuro farebbe le coccole a un topo ma gli basta vedere quel gira e lo fa anche con quella te lo dico ok sta inquadrando delle chiavi ok taci che cazzo faccio video allora riprendiamo cac due sto inquadrando delle chiavi non le caga guardate cosa c'è rosso nero non gliene sbatte un cazzo ma potrei farlo anche con blu nero verde nero verde rosso bianco giallo lui odia solo una roba e ha tutte le ragioni ma istinto e pur istinto però ha ragione e lo sapete